Che cos'è Air Light, Antonio? Air Light è una piccola meraviglia della natura trasportata all'interno di una pittura architettonica. È una tecnologia che prende la luce e la trasforma in ioni negativi su una qualsiasi superficie e permette in questo modo di ridurre l'inquinamento dell'aria, di eliminare virus e batteri da qualsiasi superficie su cui è applicata trasformando qualsiasi ambiente in un depuratore d'aria naturale. L'idea è nata dallo studio e dalla riflessione su come poter applicare questo principio su qualcosa che fosse alla portata di tutti e effettivamente le pareti di casa, le pareti dei nostri uffici, dei posti in cui passiamo la maggior parte del tempo si prestano benissimo a diventare un materiale attivo, qualcosa che può migliorare il benessere abitativo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.